E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi, devastate di like questo video, condividetelo, guardatevi i video fatti, specialmente quello di ieri sui centrali per la Fiorentina e stasera alle ore 18.45 vi aspetto se volete sul canale dei fuoricampo assieme al buon Davide Marchiole e Pep Malaguti per fare calcio Venezia, ok? Questa sera calcio e calciomercato Venezia, ma andiamo con l'infornata, da cosa iniziamo? Ma non possiamo non iniziare dalle dichiarazioni di Lula su Ancelotti e allora come dice il pancio ad oggi, ad oggi è lulismo, ad oggi lulismo calcistico ed elettorale perché uno che se ne esce la mattina, spero anche con una certa qual dose di incazzatura, a commentare l'arrivo di Ancelotti sulla panchina del Brasile, ok? Dicendo ma pensasse a risolvere i problemi della nazionale italiana e lo vorrei vedere ad allenare il Corinthians e non una squadra di 11 fenomeni selezionati, cioè io se sono brasiliano ti voto per 10 anni, ti voto per 10 anni con una dichiarazione, il nostrismo ha poi detto tutto di farlo da presidente del Brasile, quasi che tu scendessi dal pero, ma nostrismo puro e c'ha pure ragione, e c'ha pure ragione, ha assolutamente ragione e purtroppo noi abbiamo una federazione che più Mancini fa peggio e più gli si danno incarichi, più gli si dà peso, capito? Però c'ha perfettamente ragione e poi permettetemi anche una riflessione un po' a cappella, cioè ma che senso ha? Già alle nazionali nel mondo di oggi si potrebbe aprire una riflessione filosofica sulla loro utilità, ma poi voglio dire il paradosso che tu nelle nazionali per le convocazioni dei giocatori devi attenerti al criterio di cittadinanza, ok? E poi il CT può venire da altre parti del mondo, ma è un po' un controsenso, ma è un po' un controsenso, e poi assolutamente noi stiamo con Lula, stiamo con i brasiliani che si ribellano a questa scelta e che magari anche gufano Ancelotti e tutta la sua narrazione fondata sul cosa? Sull'aver sempre allenato, ripeto, formazioni all'apice della loro forza, della loro capacità, spesso mettendoci niente se non una gestione da minimo sindacale, quando gli è stato chiesto di fare un qualcosa di costruente, laddove c'era bisogno di vedere la mano costruttiva, la mano pesante di un artigiano del calcio, vedasi Napoli, vedasi Everton, i risultati sono stati quelli che sono stati. Quindi assolutamente dalla parte di Lula si guferà il Brasile, ok? E con l'Argentina del feudalesimo verso il poveretto Messi, ok? Con un Brasile ancelottiano, ebbè, definirsi uruguagi è un dovere civico e morale, non possiamo non definirci uruguagi. Cioè io con Ancelotti che allena il Brasile, io prima di un Uruguay-Brasile mi carico vedendo il video di presentazione di Godin all'Inter. Eh, questo è. E stiamo con Lula. Assolutamente, assolutamente lulismo. Dieci anni, se sarei stato brasiliano, dieci anni di voto a Lula per queste dichiarazioni. Non gliele toglieva nessuno. Poi passiamo al Milan. Vi sta parlando una persona che non è un grandissimo fan di Pulisic, ve l'ho già detto. Cioè, quindi, se devo commentare il probabile possibile arrivo di Pulisic al Milan non mi scalda. Non mi scalda, lo vedo anche abbastanza un giocatore diverso dalle caratteristiche su cui era, sarebbe il caso di impostare il Milan. Un giocatore che non mi sembra una scheggia, non mi sembra un fulmine di guerra fisicamente. Meh, l'ho visto al Mondiale, non mi pare niente di eccezionale. Mettere lui nella trequartica, oltretutto, secondo me, non è neanche un vero e proprio trequartista. Lui sarebbe più un ala sinistra da 4-3-3. Ecco, un giocatore, per esempio, che avrei visto bene in una Lazio. A me sono concesso che la Lazio di Champions avesse avuto bisogno di un esterno sinistro. Pulisic alla Lazio con Sarri poteva già avere più un suo costrutto. Al Milan io non l'avrei neanche preso, avrei risparmiato questi 20-22 milioni di cui si parla per acquistarlo e avrei fatto la seguente. Avrei impostato la squadra con Mediana, Musa Reinders, Loftus-Cic falso trequartista, ok? Un po' con questo uso e costume molto milanista negli ultimi anni, e Cukvueze a destra, con Leao ovviamente a sinistra, e Dia davanti. Quindi avrei risparmiato i soldi di Pulisic e li avrei usati per rafforzare le trattative di questi altri giocatori. Questa era un'idea di Milan molto più coerente, molto più in linea con un'idea di Milan fisico, verticale, da cavalli pesanti. Pulisic mi sembra un po'... non è che ce lo vedo tanto in questo discorso qui, non ce lo vedo molto coerente in questo discorso qui. Poi anche un'altra cosa, è attenzione a sottovalutare Romero, perché adesso sento che Pioli dovrà decidere, ma io Romero me lotterei assolutamente nelle rotazioni come alternativa al Cukvueze di turno, perché Romero è uno dei migliori prospetti del calcio internazionale, secondo me, sicuramente argentino. Romero in un Milan che ha tre competizioni, può dire assolutamente la sua, se si fa un bel ritiro, se viene tenuto in considerazione. Lotterei assolutamente Romero nelle rotazioni. Poi occhio a non sottovalutare neanche l'acquisto di Baccher da parte dell'Atalanta, che è un buon colpo. Per quel che riguarda D'Ambrosio alla Lazio, ma ecco, io credo che la Lazio non abbia, cioè non sia da D'Ambrosio che il mercato della Lazio per la Champions vada riempito, tu ti ci devi dare, ti ci devi dare i Torreira, ti ci devi dare i Berardi, ti ci devi dare questa gente qui di cui si parlava. D'Ambrosio io l'avrei visto meglio una volta che era in uscita dall'Inter, in una squadra facente difesa a tre e abbisognosa magari di un braccetto di destra, ok? Lì tipo un Monza, non lo so, una squadra così. Alla Lazio mi viene un po' da chiedere che cosa faccia, la riserva del terzino destro, c'ha la gamba per farlo, c'ha ancora... Così, insomma, quindi D'Ambrosio alla Lazio un po' mi ha un po' spiazzato, un po' mi sono chiesto l'utilità, il senso di questa operazione, ma vedremo. Poi, passiamo all'Inter. Eh, l'Inter, signori, io sono d'accordo con chi dice che l'Inter sta facendo un buonissimo mercato e ha l'onere probabilmente dello Scudetto ad oggi, poi siamo sempre... che giorno è l'8 luglio, quindi bisogna vedere come l'Inter finirà al mercato, però le inerzie, le inerzie ad oggi ci parlano, sono d'accordo con chi, insomma, sta parlando bene della campagna acquisti dell'Inter, perché l'Inter sta facendo semplicemente quello che le si era consigliato in tempi non sospetti, cioè quello di ringiovanire la rosa, perché non puoi sempre basarti sulle estemporaneità degli ultra trentaquantrenni e trentacinquenni, fare un certo tipo di scouting, ringiovanire, mettere calibri freschi, calibri pesanti, e mi pare che, insomma, fra tesi, Turam e Bacher, la campagna acquisti si è iniziata bene. Peccato un po' per il discorso di Brozovic, però è anche vero che si può inserire questa variabile di un'offerta di stipendio molto importante, che è arrivata al giocatore, però per il resto l'Inter sta agendo bene, vi dico di più, se l'Inter cede a Onana e ci fa 50, 55, 60 milioni, per me fa non bene, fa benissimo, fa benissimo, fa benissimo, perché è tutta plus valenza su un ruolo come quello del portiere, che al di là dell'affetto, dell'iperinflazione che ha avuto anche retoricamente la figura di Onana nell'ultimo anno, se tu vendi Onana e lo sostituisci con Trubin, e ti restano altri 40, 35, quel che è, milioni, per intervenire in altri ruoli, fai una super operazione, ma fai una super operazione, e dico anche di più, a me Sommer piace moltissimo, mi è sempre piaciuto come portiere, però se vendi Onana a quel punto lì, puoi anche prendere il solo Trubin, e adesso non so come si sia messi dal punto di vista di Andanovic, ma se Andanovic lo puoi rinnovare, puoi anche tenerti Andanovic secondo, e Trubin primo, puntando su Trubin, che per me sarebbe un buonissimo portiere per l'Inter, sarebbe un buonissimo portiere, quindi si sta muovendo bene il buon presidente Zank, che si sta muovendo bene la dirigenza, perché ad oggi, ad oggi, sta facendo semplicemente quello che doveva fare, cioè ringiovanire, tornare a fare un certo scouting, mettere dentro dei giovani, rinfrescare un po', no? Rinfrescare, lo sta facendo bene, anche con dei bei giocatori, con delle belle occasioni di mercato, e sono d'accordo con chi, insomma, inizia a preallettarsi per quello che è il discorso oner e scudetto, anche perché le altre, voglio dire, non vedo giganti, quali possono essere alternative credibili per lo scudetto e l'Inter? La Juve, la Juve si avvia probabilmente ad un anno di transizione, bisogna vedere chi cederà, perché c'è il rischio che ceda anche dei giocatori importanti, il Milan c'ha da rifare più di mezza squadra, e le altre, chi è che ci sono? Il Napoli c'ha una buonissima squadra, una buonissima rosa che non va sottovalutata, ma c'è il discorso di Rudi Garcia che andrà valutato, e le Romane, la Roma è arrivata a sesta e settima negli ultimi due campionati, ecco la Lazio, però anche la Lazio ovviamente si scherza e si ride tra noi, però per essere realisticamente competitiva per lo scudetto, servirebbe un mercato di un certo tipo, ecco, se a Sarri dai, Torreira, Berardi, Castellanos, almeno questi tre giocatori qua, almeno questi tre giocatori qua, allora posso anche avere l'ardore, però è inutile girarci attorno, ad oggi l'Inter è la favorita, ma è giusto che sia così, gli unici ostacoli che separano l'Inter dalla seconda stella sono Sarri e Inzaghi, facendo una battuta, però è giusto così, poi chiudo col discorso di Parisi alla Fiorentina, ma allora chiudo dicendo che non è che ci creda molto a questa voce di mercato, ma per un semplice discorso di razionalità, cioè siamo qui ad aspettare che esca Amrabat per fare mercato, abbiamo il ruolo di centravanti su cui c'è questa telenovela DIA che va avanti i soldi e la clausola, quindi soldi che probabilmente in ordine di priorità dovranno essere spesi là, soldi che in ordine di priorità probabilmente dovranno essere spesi sul sostituto di Amrabat se andrà via, poi ci sono i discorsi sul portiere, ci sono volendo i discorsi sui centrali difensivi, ci sono volendo i discorsi sugli esterni alti, cioè l'ultimo ruolo nel quale ha senso spendere quelli che probabilmente sarebbero una ventina di milioni, milione più, milione meno, sono quelli del terzino sinistro, quindi sarebbe veramente un'operazione senza senso, è per questo che ci credo anche poco, specie nelle nostre condizioni, cioè sono qui a ritrovarmi a dire sempre le solite cose, infatti mi sembrano voci abbastanza, non lo so, cioè mi sembrano voci abbastanza incontrollate e alle quali contrappongo questo tipo di ragionamento qui, Parisi vada da altre parti, da squadre che hanno più bisogno, le nostre priorità sono assolutamente altre in questo momento, sono assolutamente altre e sono di spina dorsale. Bene, questo volevo dirvi, questo vi ho detto e avevo altro da aggiungere, avevo forse qualcos'altro da aggiungere, no, mi pare di no, sull'Inter abbiamo detto, un caro saluto.